Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Nella pienezza dei tempi, il Padre, cioè l'iddio vivente e vero che ha creato tutte le cose, sia le visibili che le invisibili, ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo per essere il salvatore del mondo, cioè per salvare i peccatori. Il nome dell'unigenito figliolo di Dio è Gesù Cristo. Egli dunque discese dal cielo per fare la volontà dell'iddio e Padre suo. Il Dio fece sì che egli fosse concepito nel seno di una vergine di nome Maria. Egli dunque fu generato dallo Spirito Santo nel seno di questa vergine e lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. E al figlio che partorì, che fu il suo primo genito, pose nome Gesù, cioè Yahweh salva. Proprio perché questo era stato il nome che era stato dato dall'angelo. Sì, dall'angelo che le era apparso, perché lei rimase incinta dopo che le apparve l'angelo Gabriele. E dunque bisogna tenere presente questo, che l'angelo Gabriele, in questa visitazione che ricevette Maria a Nazareth, una città della Galilea. Bene, l'angelo Gabriele le disse, ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Dunque, a quel bambino che nacque poi a Betlemme, Giacobbe in eterno e gli fu posto nome Gesù. Egli fu allevato a Nazareth all'età di circa 30 anni. Scese al Giordano, al fiume Giordano, per essere battezzato nelle acque del Giordano da Giovanni il Battista. Giovanni il Battista era l'uomo che Dio aveva scelto di mandare davanti al suo figliolo a preparargli la strada, finché tutti credessero nel figliolo di Dio per mezzo di Giovanni. Ebbene, dopo che Giovanni il Battista lo battezzò e che Gesù salì fuori, dall'acqua, la scrittura dice che i cieli sapersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse «Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto». Dunque il Padre confermò presso le acque del Giordano, con la sua voce dal cielo, che Gesù di Nazareth era il suo diletto figliolo nel quale si era compiaciuto. E dopo essere appunto stato unto di Spirito Santo, perché abbiamo visto appunto che lo Spirito Santo venne sopra di lui, Gesù fu condotto dallo Spirito di Dio nel deserto per esservi tentato dal diavolo. Egli resistette al diavolo, quindi Gesù non cadde in tentazione, resistette al diavolo, che lo lasciò dopo alcune tentazioni. E poi Gesù si mise a predicare e a insegnare per tutta la Galilea. insegnava nelle loro sinagoghe, predicava l'Evangelo del Regno, sanava ogni malattia, ogni infermità fra il popolo, cacciava i demoni. E naturalmente la sua fama si sparse anche oltre i confini di Israele e le moltitudini si accalcavano per sentirlo, perché uscivano delle parole di grazia dalla sua bocca, che non erano mai uscite dalla bocca di nessuno, perché nessuno mai aveva parlato come lui. Egli portavano malati, colpiti da varie infermità, da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici, e lui li guariva tutti. E lo seguivano grandi folle. E tra i discepoli che egli fece, nell'Esse 12, gli apostoli, al quale è detto il nome di apostoli, che mandò a predicare il regno, a sanare ogni malattia, e anche a cacciare i demoni, a risuscitare i morti. E tra questi 12 apostoli, uno di nome Giudea Scariotto lo tradì. Lo tradì naturalmente perché così Dio aveva decretato, perché? Perché Gesù Cristo, il figliolo di Dio, doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, doveva essere dato nelle mani degli anziani, dei capi sacerdoti, degli iscrivi, essere condannato a morte, poi doveva essere dato nelle mani dei gentili, doveva essere dato, infatti fu dato poi nelle mani del governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato, per essere crocifisso. Infatti Ponzio Pilato, poi dietro richiesta del popolo, che gridava crocifigilo, crocifigilo, sentenziò che Gesù di Nazareth, il Cristo, doveva essere crocifisso. E così Gesù, il giusto, il santo di Israele, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che era andato attorno, facendo del bene, soltanto del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Ebbene Gesù, per tutto il bene che fece, fu contraccambiato con il male. Il bene che lui fece fu contraccambiato con il male. Ma tutto questo avvenne, perché lui fu odiato, fu odiato senza ragione, perché aveva fatto soltanto del bene. Ma tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio. E quindi lui il giusto fu crocifisso. Fu appeso ad una croce. E su quella croce, nel suo corpo, egli portò i nostri peccati. Perché così aveva detto il profeta. Mi riferisco al profeta Isaia, che aveva detto del Messia, ossia del Cristo, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. là sulla croce del Calvario, del Golgotha. Quindi Gesù Cristo, il figliolo di Dio, morì per i nostri peccati. Secondo quanto, appunto, avevano detto le scritture. E poi fu seppellito. Fu seppellito in una tomba nella quale ancora non era stato posto nessuno. era una tomba che aveva fatto scavare nella roccia un certo uomo di nome che era ricco, Giuseppe d'Arimatea, il quale era diventato discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei. Ebbene fu seppellito là Gesù, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture. perché era stato detto dal Signore che appunto l'avrebbe risuscitato al Cristo. Infatti il salmista aveva detto tu sei il mio figliolo, cioè Dio aveva parlato tramite il salmista in questi termini, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. In questa maniera fu predetta la resurrezione del Cristo. Ma anche in un altro salmo è scritto tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E queste scritture parlavano appunto della resurrezione del Cristo, quindi il Dio aveva anche fatto predire la resurrezione del Cristo. E questo si adempì perché il terzo giorno Cristo è risuscitato dai morti secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture. e poi dopo essere risuscitato apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, apparve i suoi discepoli. Ecco, Gesù è il figlio di Dio che è disceso dal cielo per fare la volontà dell'iddio Padre Suo. Ha dunque acquistato una redenzione eterna. L'ha acquistata con il suo prezioso sangue, spargendo il suo prezioso sangue. Per cui adesso chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque vi annuncio la remissione dei peccati nel nome del Signore Gesù Cristo. Non solo, chi crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, quindi reso giusto perché è la sua fede, gli viene messa in conto di giustizia e quindi egli cessa di essere un impio sulla via della perdizione perché il Signore lo giustifica e lo pone sulla via della salvezza e oltre la remissione dei peccati, oltre alla giustificazione chi crede nel Signore Gesù Cristo tiene la vita eterna, chi crede nel figliolo ha vita eterna, la vita eterna infatti è il dono di Dio in Cristo Gesù e dunque chi crede nel figliolo di Dio ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore nel regno dei Cieli quindi vi esorto a ravvedervi e a credere nel Signore Gesù Cristo il figlio di Dio ma vi avverto che se rifiuterete di ravvedervi di credere nel Signore Gesù Cristo ossia se rifiuterete di credere nell'Evangelo che vi ho annunziato che è questo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve dei testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio ecco se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati l'era di Dio resterà sopra di voi non vedrete la vita sarete condannati quando morirete l'anima vostra si dipartirà dal vostro corpo e scenderà discenderà in un luogo di tormento chiamato Ades dove c'è il fuoco dove arde il fuoco e dove sarete tormentati in attesa del giorno del giudizio quando risusciterete in risurrezione di condanna per essere giudicati da Dio davanti al suo trono e poi essere scaraventati gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolf dove sarete tormentati per l'eternità in mezzo ad atroci sofferenze quindi io vi ho avvertito io vi ho avvertiti della fine orribile che farete se persisterete nella vostra incredulità ecco perché vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo della grazia di Dio affinché possiate veramente ottenere grazia da Dio affinché Dio vi faccia grazia vi perdoni vi giustifichi vi dia la vita eterna altrimenti perirete 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 perché nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi ravvedetevi e credete in Gesù Cristo il figlio di Dio che orecchi da udire oda grazie